ecco il tempio ciao a tutti ragazzi qui mi chiamo il vostro povero youtuber di quartiere sono ritornato al tempio della Masellanza e sono qui in compagnia di questa pelatissima creatura ve lo ricordate questa chioma lui è il capitano siamo riusciti a riportarlo nel canale il capitano prossima volta dobbiamo riuscire a riportare anche il senpai oggi andremo ancora una volta a unire il fitness con il disegno e visto che l'ultima volta dovevamo raggiungere 10 like facciamo il disegno con plank oggi lo faremo perché abbiamo raggiunto i 10 like pronto capitano? si ma si diciamo che è pronto per il suicidio allora il capitano inizierà e dovrà disegnare un trichecco in memoria di ieri che abbiamo visto guardiani della galassia che c'è un trichecco dopo è facoltativo se mette le ruote o no e io dovrò disegnare un procione lavatore allora abbiamo allestito anche il regale la regale trovaglietta modestamente questa bella trovaglietta scolorita e anche con scritto auguri stiamo mettendo metteremo anche il timer anche perché il tempo del disegno dipenderà da quanto tu resisti in plank ecco il capitano è partito come le sente capitano? se vuole andare oltre al minuto può farlo si sa se ci riesco oppure no ah ma sta facendo anche le ruote le ruote guardalo ah quindi la finisce così non rischia non rischia beh dai comunque devo dire che stava venendo bene quasi se vuoi fare un altro minuto così lo completi e il capitano con un minuto porta a casa la pagnotta mickey che posizioni di avvicino In questo mitico progione, visione dall'alto, ma poi presto ci avvicineremo in una sorta di slow motion drammatica. Perché c'è resista, resista uomo, lei ha 27 secondi. Che bel progione, ma che carino. Regista, resista uomo, si planchizzi. Visto? Visto che roba. Ci siamo, ci siamo. Come la sembracchina è un minuto e sette. Dai che può finirlo. Ci siamo. Basta. Allora, con un minuto e venti di plank ho fatto questo. Allora, le sue impressioni su questa nuova tecnica di disegno? Pensavo peggio, però si sente che era più difficile fare gli addominali che l'assice. Ah. Dai è stato più difficile. Quindi preferisce il plank? Sì, è salvabile. Per certi aspetti, sì. Più difficile, purtroppo, mantenere la posizione, dopo si trema tutti e poi il disegno si sacrifica un po'. Non è male come prova. Bene. Dovrei in poi il capitano disegnare così sempre. Io invece... Allora, a metà disegno ho detto... Cioè, quando erano tipo trenta secondi ho... Cioè, ero solo a testo e ho detto, cavolo, adesso come cavolo? Ah, non riesco per resistere. Però dai, sono riuscito a resistere così a un minuto e venti. Sono soddisfatto. Soddisfatto? Mettete like, iscrivetevi, commentate, poi se no il capitano viene a casa vostra. Ecco. Già capito. Ciao. Bye. Lei che cosa sta facendo lì? Lei sta a mangiare? Era di merenda. No, 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 no. Questo non è un posto dove mangiare. Mie che cosa stai facendo? Cosa stai mangiando? Una brioche. Mettila da parte. Si si allena. Ormai è aperta. Dopo di là. Si specca cibo dopo. Sarà aperto lei dopo. In tutti i sensi.